Allora, dopo questi explodi, Luca Bergion, presentiamoci, voi siete i... Palla al volo! Palla al volo? Cavolo che fantasia! Però la sottilezza sta nel fatto che studiamo Ingegneria Aerospaziale, quindi col volo ci siamo! Com'è andata la partita? Bene! 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 Questo tutto sommato mi puzza, perché? Chiunque abbiamo perso! Voi chi siete? Dai, presentatevi! Imosfettieri! Imosfettieri! Seguite su Instagram! Imosfettieri! Imosfettieri! Seguiteci! Com'è andata la prima partita? Vinto! Vinto! 2-0! 2-0! Schiacciate! Come proseguirete? Siamo abbastanza felici della resa, diciamo, della partita! Obiettivi! Almeno semifinali! Almeno, almeno! Sennò sono ambiziosi! Voi di che anno siete? 98! 98! Quindi parte partecipazione, siamo un po' rodati! Quindi puntiamo alla semifinale! Di dove sei? Spoleto, in Umbria! Ci girano Don Matteo, quindi tutte le vostre nonne a casa conosceranno sicuramente Spoleto! quindi salutiamo tutti gli abitanti di Spoleto, tutti i… Saluta la nonna! No, 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 no.